Palla a mano Lennardon va al portacol Cristina Lennardon 6 a 4 Bartoli, Bartoli Enrica, Bartoli Fanelli allarga tutto Per Chiara Bonamano Palo e Chiara La bocca di Bartoli E questo andrà fuori per due minuti Rosso Rosso per Bartoli Poi avanza Piatello Il tiro è il gol 11-9 Per Retti La chiappa è il momento giusto per Retti Federica In avanti per Maruzella Il tiro Enrica Maruzella Più 6 Crosta, Crosta, Crosta Martina Crosta Ferretti Arriva il pallone Ferretti Forza Federica Ferretti 21-13 Se l'ha spostato a tutto sinistro Cappelli Traversa E il ruolo di Cappelli Poi il gol Crosta 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 Martina Crosta Ma il palo arrabbatico È finita La Flavioni Batte per l'impatto a 23 cicoli E si qualifica per la terza fase Uno dei risultati più importanti Buonasera e ben ritrovati Nuova puntata di Sport Time Oggi una puntata speciale Come vedete Non siamo negli studi delle Civita Vecchia Ma siamo Eh Alla Lega Navale Appunto della nostra città Perché? Perché In una settimana è arrivata Una notizia eh Direi straordinaria Di vitale importanza Per quanto riguarda lo sport Ovvero la convocazione Di eh Mattia Camboni Per le prossime Olimpiadi Di Rio de Janeiro Mattia Camboni Che è qui al mio fianco E insomma Eh È appena tornato da Palma di Mallorca Dall'altro dove si è allenato Con la nazionale Mattia La prima domanda Insomma È d'obbligo Insomma Come hai vissuto Eh La notizia La notizia che poi Forse un po' ti aspettavi anche La notizia della convocazione Per le Olimpiadi di Rio de Janeiro È stato Bellissimo Bellissimo Perché Sono stati due tre anni In cui L'obiettivo era solo questo Solamente Ogni allenamento era Appunto indirizzato Verso questo obiettivo Che Non è facile E Fortunatamente è arrivato E quindi È stato veramente qualcosa di speciale Una cosa che ricorderò Sempre E porterò sempre con me C'è stato un primo pensiero Mattia Quando Ti è arrivata l'ufficialità Quando ti è arrivata questa Questa bellissima notizia Sì È stato Finalmente questa sera Posso dormire tranquillo E sereno E Sicuramente anche la mia famiglia Dormirà un po' più serena Da oggi fino alle Olimpiadi Perché poi Per me Diciamo che inizia adesso Il vero periodo Intense Di allenamenti Un po' Come con l'allenatore Abbiamo detto Sarà un periodo di inferno Perché veramente Già da questa settimana Abbiamo visto che gli allenamenti Sono aumentati I ritmi Sono diventati veramente duri Avevamo quasi Tre allenamenti Spesso Tre allenamenti al giorno Abbiamo fatto sette giorni Di allenamento di seguito Tre allenamenti al giorno Qualche volta due Stavamo molto tempo in acqua Perché ora appunto Inizia ad essere più importante La parte in acqua Dopo aver fatto un periodo Di preparazione fisica Quindi ora Si mantiene la Si mantiene la forma fisica Si cerca di migliorare in acqua E quindi I ritmi iniziano ad essere elevati Ma è giusto che sia così Mi piace avere questo problema Quindi Diciamo ti puoi anche Un po' rilassare Come hai giustamente sottolineato Perché forse Mattia È normale che nell'ultimo periodo Ci sia un po' Un po' di tensione Legata anche ai risultati Che bisogna ottenere Per appunto Arrivare a questa convocazione Sì Soprattutto negli ultimi due anni Da quando Dallo scorso gennaio Quando è iniziata la Selezione Sono stati Ogni regata Era importantissimo Anche perché Abbiamo un metodo di selezione Molto particolare Forse uno dei più Stressanti Perché non Andava a punteggio O dicevano La regata Il mondiale dell'anno 2015 L'Europa 2016 Sono selezione Era su tutte le regate Da gennaio 2015 A una settimana fa Quindi loro prendevano Tutte le regate In osservazione E in più non è che avevano Seguendo un punteggio O qualche Qualche metodo Avevano Su scelta federale Quindi su In base alla scelta del tecnico Di tutta la federazione E quindi questo penso Abbia reso un po' tutto Più stressante Fortunatamente ho avuto Due anni ottimi Una grande crescita Dal punto di vista Delle regate Anche nel mondo assoluto Nel mondo dei grandi Nei primi due anni Sono stati questi I primi due anni In cui appunto Sono trovato a gareggiare Con quelle forti veramente E sono contento Dei progressi Che abbiamo fatto Con l'allenatore E con Daniele E' andata bene Andata bene Felice Hai delle idee di che da fare Mattia? Qualche persona A cui vorrei dedicare Questo straordinario risultato? Ma sicuramente A tutte le persone Che mi hanno seguito In questi anni A Daniele Che ha condiviso I bei momenti E momenti anche Meno belli con me E che fa Ogni giorno Da il massimo Per allenarsi in acqua con me E condivide ogni giorno La stanza con me Mi sopporta E sopporta lui Diciamo un compagno di vita E un nemico di Compagno amico E nemico di vita Però sì Devo ringraziare lui principalmente Che non lo sta ammolando Neanche in questo periodo Che magari Uno ne può risentire un po' Invece si continua A dare il massimo E per me è fondamentale Al fine di continuare A migliorare In vista delle Olimpiadi Stiamo anche lavorando Con altri atleti Molto forti E questo può solo che aiutare Poi aveva la mia famiglia Che fin da piccolo Ovviamente Essendo uno sport A volte Secondario Uno sport non di punta Non ha molta attenzione E quindi Non ci sono molti sponsor Devi essere forte Quindi La federazione aiuta Ma a livello Anche cittadino Non è che c'è Qualcuno che ti aiuta Quindi se non fosse stato Per i miei genitori E per la federazione Sarebbe stato molto difficile Fortunatamente In questi ultimi anni La federazione Ha aumentato E I raduni E gli allenamenti Ma nello stesso tempo Ha aumentato anche la loro presenza Nei nostri confronti E quindi Ci hanno aiutato sempre 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 Sono stati veramente presenti Infatti Voglio ringraziare Tutta la federazione Da Michele Marchesini A Alessandra Sensini E tutto Tutto lo staff Guglielmo Vatteroni E tutti quanti Anche per la scelta Appunto Per l'Olimpiadi E il Gruppo delle Fiamme Azzurre Che da Due anni È presente tutti i giorni Qualsiasi necessità O a livello di attrezzatura Perché mentre la federazione Si occupa più di Trasferte Viaggi Allenatore Comune Che già Sono centinaia Di mille euro all'anno Stagione C'è la C'è il gruppo sportivo Che si occupa appunto Dell'attrezzatura Di seguirmi proprio A livello personale Quindi anche il gruppo delle Fiamme Azzurre È importantissimo Volevo ringraziare Marcello Toluo E Gabriella Romano E inoltre Ringrazio anche l'Unicef Che mi permette di essere Appunto testimonial Di una cosa così importante E che mi rendo orgoglioso Ogni volta appunto Che vado in acqua Mattia Hai già parlato Di Daniele Benedetti Il tuo compagno Insomma anche in questi anni Di preparazione olimpica È una festa a metà Per te Per il fatto che Hai vinto Hai dovuto vincere La battaglia Con lo stesso Daniele Per conquistare il pass Visto che c'era Un solo posto a disposizione Diciamo che L'unica pecca di questa Vittoria L'unico motivo Per cui non essere Felicissimo O almeno felice Quanto sarei potuto essere È questo motivo È il motivo Che da appunto Daniele non potrà Sarà con me Da una parte Che alla fine Allenandosi tutta la vita Con me Sarà lì con me Ma non poter avere un avversario Come lo in acqua Sarà Non so Sarà diverso sicuramente Già da piccolo Abbiamo avuto I scontri del genere Per la selezione del mondiale Giovanile Che sempre ne va una nazione Una volta ha vinto lui Una volta ha vinto io Questa volta ho rivinto io È così lo sport Purtroppo Ne va uno E Ti senti di dirgli qualcosa Eh Grazie Perché se oggi sono qui È anche grazie a lui E E Spero di continuare appunto Questa strada Per i prossimi Quadrienni E per le prossime Olimpiadi Insieme a lui Quindi servirà anche lui E tu servirai a lui Perché insomma Ovviamente Vale per questa Olimpiade Per il futuro Sere due atleti molto giovani Quindi è tutto molto Molto aperto Sì anche perché siamo partiti Come i più piccoli Del team Italia Inizio quadriennio Come quelli che dovevano provare Ma era così Era giusto per iniziare A vedere Come ci si muoveva Nel mondo dei grandi Invece Anno dopo anno Abbiamo diciamo Fatto fuori Quelli più grandi di noi Siamo rimasti di noi Addirittura Abbiamo fatto risultati Che era da tanto tempo Che nell'RSX Nel windsurf maschile Non erano Non avvenivano E quindi anche la federazione Inizia a farci caso A dei risultati del genere Mattia Luce è cresciuto qua Noi ci troviamo Alla Lega Navale Civitavecchia Proprio in queste acque Ha iniziato Diciamo con il windsurf Hai qualche ricordo particolare Legato diciamo a questa A questo tuo inizio Diciamo nel mondo Dello windsurf Hai mai pensato Di poter andare Un giorno all'Olimpiadi Un tuo sogno Oppure è nato tutto così Diciamo passo dopo passo Eh passo dopo passo All'inizio veramente Fino ai sedici anni Sì Fino a due tre anni fa L'idea dell'Olimpiadi Ma non avevo neanche Tanto idea di cosa fossero Olimpiadi fino a due tre anni fa Ero ancora nella parte Del divertimento Ancora oggi è un divertimento Però è diverso Prima era proprio Andavo a fare la regata Andavo a fare una festa Andavi di là Perché conoscevi le persone Adesso è un po' diverso ovviamente Perché Eh Deve essere diverso Perché se no non riesci neanche A stare ai ritmi degli atleti Ehm Eh Sì le Olimpiadi Quindi piano piano Sono iniziato Hanno iniziato a far parte Sì dei miei pensieri Sì Fortunatamente Perché anche se non ci pensi Ogni volta che devi dire Ok oggi devo andare in acqua Perché? Perché era una motivazione Sennò non ci vai E fortunatamente Sono stati i pensieri Ben dirizzati Io Mattia ho in mente Una tua intervista Che realizzammo qua Nel lontano 2009 Tu eri poco più di un Di un bambino E credo che Eh Andavate ancora con Con le tavole più piccole Sì Insomma Non sembravi avere In testa Quell'obiettivo Ovviamente era un obiettivo Per te lontanissimo Forse Troppo lontano No? Da vedere Sì Anche perché Addirittura era un obiettivo Del nostro allenatore da adesso Quindi era un'altra generazione Possiamo dire Ne va uno Quindi ancora più difficile Da giovani così ancora Non si sa poi Se farà il salto Per arrivare a quel livello Ancora non si capisce molto bene Fortunatamente Avendo un compagno come Daniele Un allenatore come Adriano Stella Che fin da quando eravamo piccoli piccoli Ci ha sempre portati in acqua Con le peggio condizioni Però ci ha fatto anche amare questo sport E siamo riusciti a continuare Senza mai annoiarsi Senza mai stufarsi questo sport E penso sia Il modo migliore Per appunto Provo che dire Per fare i progressi Sì Lo ricordiamo Mattia Come è iniziata la tua passione Per questo sport Un po' strano Un po' particolare E appunto Vedendo Adriano Stella Emanuele Arciprete Marco Balbi Martina Fisco Che è stata anche la nostra allenatrice I primi anni Vedendo lì qua andare con il windsurf Ho detto Secondo me deve essere divertente Quindi piano piano abbiamo iniziato Insieme a Daniele Anche a Veronica Fanciulli Tutti insieme abbiamo iniziato Con altri ragazzi Poi ovviamente ognuno ha preso la sua strada Mentre con Daniele e Veronica abbiamo continuato E appunto era Abbiamo iniziato per gioco Siamo usciti e non riuscivo neanche a tirare sulla vela Quindi provo a tirare sulla vela Però 10 secondi Non ci riuscivo e mi tuffavo in acqua Ha iniziato malissimo Con la vela di pluvuto Era appunto un gioco E' stato per moltissimi anni un gioco Penso sia stato questo che mi ha fatto Innamorare di questo sport Ma anche migliorare Forse un pelo più degli altri Perché andavo in acqua contento di andare in acqua nove Non era mai un sacrificio neanche con zero gradi O con la pioggia Era sempre un divertimento Anche in merito degli allenatori Perché se poi è un allenatore che non ti fa piacere questo sport I risultati non vengono Mattia il tuo rapporto speciale anche con il mare in generale Insomma perché oltre al windsurf sei anche un surfista So che uno dei pochi motivi per farti svegliare presto la mattina È quello di vedere una bella giornata in cui surfare O fare windsurf Sicuro sicuro Siamo cresciuti nel mare Andavamo a fare surf da onda Scappando dai genitori Scappando dalla scuola Scappando da qualsiasi cosa Pur di buttarci Anche in condizioni di fogna Che buttava fuori Non si sa cosa Onde giganti Veramente scappamo dai nonni Che dicevano No non puoi andare in acqua perché è pericoloso Ok non vado Prende iniziai a correre Andai a mare Quindi siamo cresciuti nel mare Conosciamo i rischi Perché è sempre molto pericoloso Soprattutto se esci da solo Fortunatamente non usciamo mai da soli Perché iniziamo Ormai sappiamo cosa vuol dire Con condizioni pericolose Uscire in acqua Rompere qualcosa E restare in mezzo al mare Cioè è difficile ritornare a terra Quindi si esce sempre in due Sappiamo ormai muoverci In mezzo a In condizioni anche non adatte Per il windsurf E' il nostro sport E' come se dici A uno sciatore Lancia dita alla montagna E fai quel foribisto Ovviamente lo fa Per una persona come me Sarebbe un suicidio Comunque sì Siamo cresciuti in mezzo al mare Facciamo tutto Anche l'estate che non c'è vento Ci inventiamo A fare il scinotico col gommone E mettere il ventilatore Quello potremo provare Mattia Abbiamo fatto un po' Un salto indietro Una serie di salti indietro Per ricordare anche tutto Com'è iniziato Però adesso la notizia E' quella della tua Olimpiadi Quindi torniamo a parlare di questo Cosa ti aspetti da Rio de Janeiro? Allora Prima di Rio de Janeiro Avremo tantissimi allenamenti Abbiamo adesso La regata Molto importante Come Una regata molto prestigiosa In Francia E adesso A fine aprile E poi dall'inizio Erano allenamenti su allenamenti Avremo Un allenamento Di 15 giorni A Rio de Janeiro A maggio Poi torniamo una settimana 4-5 giorni Ripartiamo Un'altra 15 giorni Sempre a Rio de Janeiro Fine maggio Metà giugno Poi abbiamo L'europeo E dopo l'europeo Abbiamo due allenamenti Sempre con la squadra Spagnola e Svizzera Con l'atleta Svizzera Che andrà all'Olimpiadi Abbiamo fatto un Sì Un programma Insieme Perché pensiamo che ci possa aiutare E lui Penso Pensare alla stessa cosa E quindi andremo L'ultimo mese A prendere l'Olimpiadi No a Rio Perché non vogliamo stare troppo tempo In quel posto Ma preferiremo allenarci Al Lago di Garda Un posto molto Diciamo Un posto ottimale Per provare L'attrezzatura Testare l'attrezzatura Che appunto Sarà fondamentale Andare a Rio Con un'attrezzatura Tutta la perfezione Diciamo che l'attrezzatura Per il primo anno Potrei portare all'Olimpiadi Perché fino al scorso quadriennio E gli atleti andavano lì E avevano tutta l'attrezzatura Però capitava che andavi lì E magari avevi un'attrezzatura Che non andava In teoria sono tutte uguali Tutte a stessa misura Però poi cambia Una minima forma A millimetro Può cambiare tutto E quindi Non c'erano mai Atleti che andavano lì Dopo anni e anni allenamenti Avevano un'attrezzatura Che non andava E perdevano Allora da quest'anno Si può portare la pinna Che è quella che va sotto la tavola E l'albero Che sono le Appunto le due parti più flessibili Che fanno più differenza Quindi bisognerà andare lì Con l'attrezzatura Al massimo Perfetta E pensiamo anche che Il lago di Garda Ci permetta di trovare Le condizioni Più simili A quelle che Dovremmo trovare a Rio Un pensiero Un obiettivo Te lo sei sognata Questa Quest'Olimpiadi Come un risultato possibile Magari Di notte Di svegli che Hai raggiunto la medaglia O sei arrivato In meta race E Allora L'altro anno Scorso estate C'è stato appunto Il test event Sì che erano Olimpiadi di prova Con i stessi partecipanti I stessi giorni Stesse condizioni È andato molto molto bene Al di là delle mie aspettative E anche quelle del mio allenatore E sono uscito appunto A finire nei primi dieci A una finta Olimpiadi Ma che in realtà Sarebbe potuto essere Un'Olimpiadi senza medagliere Diciamo Quindi è stata un'ottima regata Anche se ho avuto degli alti e dei bassi Quindi penso che Con i progressi che ho fatto Avendo ancora altri quattro mesi Di allenamenti intensi Andando lì senza troppa pressione Perché sono il più giovane E la mia prima Olimpiade Non vado lì per vincere un oro Perché vincere un oro Ancora è presto Sono atleti Di 30 anni 29 anni 35 anni Che hanno esperienza maggiore Per puntare un oro Pensando di poter fare Un'altra ottima E spero Di poter fare Un'altra ottima prestazione L'obiettivo principale Sarebbe fare Nei primi dieci Poi una volta che stai Nei primi dieci Provi a fare Nei primi otto Poi magari Se succede che vecchi La settimana è la perfetta Fanno i primi cinque Può succedere di tutto Nei olimpiadi Non saprei cosa dirti Perché Molti atleti mi dicono Che lì L'importante è la testa poi Quello che ti dice Puoi essere il più forte del mondo Ma se poi la testa Quella settimana Non ti funziona Poi fai ultimo Quindi Mattia Gamboni Come se la immagina Insomma la sua testa In quel momento? Pronta Prontissima Poi vedremo Per quanto riguarda Queste Queste regate Di mattina Che ti aspettano All'Olimpiade Come ti vedono gli altri atleti? Tu sei Come hai già detto L'atleta più giovane Sei Un atleta Tra virgolette sottovalutato Potresti essere un po' la scheggia impazzita La sorpresa di quest'Olimpiade Noi li chiamiamo gli outsider Quelli che arrivano lì Che non hanno mai fatto nulla E poi magari Si sparano la settimana della vita Diciamo che non siamo più sconosciuti Ho disegno che Daniele In questi ultimi anni Sì due anni Abbiamo iniziato a stare Ogni tanto A avere degli altri Quindi ad entrare nei primi dieci Magari nei primi cinque Dopo il primo giorno di regata Eramo nei primi tre Quindi iniziano a conoscersi Iniziamo a fare medal race Che comunque è da primi dieci al mondo E non è da tutti E penso che In partenza Qualsiasi atleta Trovandosi a fianco ad un atleta come me Come Daniele Inizia a pensare Ok ora devo fare una buona partenza Non ho rischio di saltare O di non poter vincere quella prova Perché se parti male C'è un modo in cui prepari La gara Diciamo la regata Ti preparerai qualcosa di nuovo Per quest'Olimpiade Insomma ci hai iniziato già a pensare Mattia Sì Da poco tempo Con l'allenatore abbiamo iniziato A lavorare un po' sul lato Appunto psicologico Perché inizia a essere importantissimo A questi livelli Sono le prime volte Mi trovo appunto A lavorare su questi Su questo punto di vista Perché appunto Lato psicologico finora Non l'ho mai neanche notato Più di tanto Non ci ho mai dato Non gli ho mai dato tante importanze Invece adesso noto che Vai in acqua Un giorno vai in acqua Fai due primi Il giorno dopo In queste condizioni vai in acqua Fai due ventesimi Perché? Perché magari la testa E altri pensieri è tutto Quindi iniziamo a lavorare anche su quel punto di vista Gli allenamenti sia in acqua che a terra Sono cambiati Sono aumentati Anche in palestra I lavori sono diversi Anche a mare i lavori sono diversi E quindi Secondo me stiamo facendo un lavoro giusto Anche dai risultati che stiamo avendo ultimamente Secondo me stiamo lavorando nel modo giusto Quindi speriamo bene Un'ultima battuta Siamo alla fine di questa intervista Ovviamente sarebbero tante le cose che uno ti vorrebbe chiedere Hai un sogno per questa Olimpiade o già il fatto di essere arrivato a Rio de Janeiro Hai esaudito diciamo così un tuo sogno? E più che il sogno è stato Sì Diciamo che è un sogno Il sogno di fare un'Olimpiade è il sogno di tutti gli atleti Però era più un obiettivo Soprattutto dopo i risultati che ho avuto all'inizio stagione Era diventato un obiettivo Sempre un sogno Perché fare l'Olimpiade in una nazione Se ci pensi quanti atleti danno la vita Magari per qualsiasi motivo non riescono ad arrivare a un'Olimpiade Da 19 anni Fare un'Olimpiade è qualcosa che non capita tutti i giorni E il sogno vero sarebbe fare medaglie Magari non a queste Olimpiadi ma puntare a Tokyo 2020 Però il sogno vero è fare la medaglia Perché poi è quello che fa la differenza Fare le Olimpiadi sono tanti Da lì la guardi da un punto di vista diverso Sono tantissime che fanno Olimpiadi Quelle che fanno medaglie ne sono tre Quindi speriamo di prima o poi di realizzare questo sogno Noi lavoriamo per questo Mattia in bocca al lume grazie per l'intervista Grazie mille Speriamo di onorare Civita Vecchia Siamo stati anche fortunati a trovare Adriano Stella qui alla Lega Navale Che ha terminato lo stage per quanto riguarda la nazionale femminile E anche l'Under 19 se non vado errato di quella maschile Però la prima domanda Adriano te la devo fare sulla notizia che è arrivata Insomma per quanto riguarda Mattia Camboni Che sarà convocato per le prossime Olimpiadi di Rio de Janeiro Ti aspettavi questa notizia E soprattutto per te che effetto fa Insomma tu che l'hai visto un po' crescere questo ragazzo Non nascondo che me l'aspettavo perché essendo all'interno dell'ambito federale Comunque se ne era ampiamente discusso E diciamo la volata finale era tra Benedetti e Camboni Era aspettata Mancava l'ufficialità E è arrivata con il Consiglio federale che si è riunito a Genova Quindi io già l'avevo masticata insomma E già avevo così insomma Sono dato un po' il terreno in entrambi i ragazzi Ti dico me l'aspettavo E la gioia più grande è che comunque sia uno dei nostri Dei nostri ragazzi Quindi sicuramente la gioia immensa E il fatto di averli visti crescere sotto i miei occhi È un motivo veramente di Cioè di essere fiero che a Civitevecchie esistono due ragazzi così insomma Due atleti così Parte del merito te lo prendi Adriano insomma Perché l'hai cresciuto un po' tu dall'inizio no? Guarda no In questi giorni non seguo troppo i social Però ho visto tanti meriti attribuiti E secondo me il merito unico e più grande va attribuito a Mattia A Mattia o a Daniela Chi è l'atleta selezionato Perché arrivare a conquistare il pass per le Olimpiadi Se non viene da dentro Se non hai qualcosa dentro Puoi avere intorno migliori allenatori Tecnici Preparatori atletici Ma deve venire da dentro Quindi secondo me il più Bravo Il bravo più grande va a Mattia Poi sicuramente Per arrivare a conquistare un posto alle Olimpiadi Serve un entourage di persone giuste al momento giusto E serve sapersi trovare lì insomma Forse ancora non l'ha digerita del tutto Mattia questa questa notizia Perché insomma ha 18 anni Quasi tra poco 19 Però insomma molto giovane Dovrà affrontare le Olimpiadi Come si affronta appunto da così giovane Un evento forse enorme Grandissimo per uno sportivo Forse proprio perché Data la giovane età Mi sento di non dire nulla se non goditela Perché Un conto è arrivare ad un'Olimpiade da atleta maturo E un conto è arrivare ad atleta acerba Passatemi il termine come lo è Mattia Quindi L'unico consiglio che gli do è veramente quello di Godersela dal 5 agosto quando ci sarà la sfilata Fino all'ultima regata A prescindere da come vada Sarà un'esperienza indimenticabile E mi auguro che sia un'esperienza da poter Raccontare e trasmettere Per poi magari riprovarci in un secondo momento Potrebbe essere la sorpresa di questa Olimpiade Ma perché no? Le Olimpiadi hanno riservato tante sorprese Nel corso degli anni Nella storia ci insegna che Di scontato non c'è nulla C'è sempre il famoso outsider Mattia ha le carte per essere un outsider Speriamo che sia la settimana giusta Col vento giusto E poi insomma È il campo che Che dice l'ultima verità Quindi Non lo so potrebbe sicuramente Allora mi posso sbilanciarti Dico che una finale olimpica È nelle sue corde Siamo qui alla Lega Adriano L'ultima domanda Insomma tu L'hai visto un po' crescere Mattia Come abbiamo già detto Da quando era piccolissimo Hai qualche ricordo Insomma Di lui da piccolo Aveva già Non lo so Il sogno Comunque La volontà di raggiungere Un obiettivo così importante Secondo me il sogno Ce l'hanno tutti gli atleti Perché Ed è giusto che abbiano un sogno Nei libri è chiamato proprio L'obiettivo da sogno Cioè faccio lo sport Perché un giorno mi piacerebbe Essere il campione del mondo O arrivare alle Olimpiadi Di ricordi ne ho tantissimi Di Mattia Di Daniele Di Verona Io sono cresciuto professionalmente E umanamente Insieme ai ragazzi Quindi Ho la fortuna ancora adesso Di ricalcare lo stesso Percorso Su strade Leggermente divergenti Però Di ricordi ce ne stanno tanti Quindi Ne potrei raccontartene mille Insomma Però Immagino tutti molto belli Insomma Legati anche alla volontà Cioè sto cercando di qualcosa In particolare Ma Non è un percorso di crescita Antonio Quindi Non saprei individuarti Un qualche cosa Un insieme Come Tanti ingredienti messi insieme Fanno un buon piatto E qui è la stessa cosa Non è solamente Mattia Cioè Il merito è del gruppo sicuramente Il merito che ha portato Mattia e Daniele Ai vertici comunque Della categoria nazionale E anche internazionale E sicuramente Del gruppo Da soli Sicuramente Magari sarebbero arrivati Ma non così in fretta Un'ultimissima abbattuta Tu Hai terminato Da poco Proprio oggi Lo stage Per quanto riguarda La nazionale femminile Di cui sei La tecnico Come è andata E a che punto siamo Invece per quanto riguarda La convocazione delle ragazze Che sappiamo insomma Essere già avvenute E forse essere stata anche Un po' più facile Rispetto a quella dei ragazzi E' stata un po' più facile Perché ci siamo ritrovati Nella nostra rossa di atlete Un atleta che dal 2013 ad oggi Ha ottenuto medaglie Quindi è molto più facile Selezionare un atleta Che comunque vince E' un rovescio della medaglia E' avere in squadra Un atleta dove si punta molto Quindi noi della federazione Ma anche il CONI Spinge molto Su Tartaglini Flavia Che è appunto l'atleta Che è stata selezionata a dicembre In quanto viene classificata Come un atleta Da probabile medaglia Quindi ti dico Il carico di lavoro Il carico di stress Da sopportare E' tanto Però stiamo lavorando Nella direzione giusta Abbiamo iniziato questo 2016 Con un quarto posto a Miami E una medaglia d'argento A Palma Due settimane fa Adesso abbiamo finito Appunto oggi L'ultimo stagio formativo Di rifinitura In vista della Coppa del Mondo Di ieri Che sarà inizio prossima settimana E poi ci rimane solamente Da andare a Rio Ogni mese E andare a testare il campo E prepararci al meglio Per quella che sarà L'Olimpiade Quindi in ambito femminile Ti aspetti un bel risultato Non lo possiamo dire Aspettarsi alla parola sbagliata Sicuramente stiamo facendo Del nostro meglio Affinché Performare al top Poi Dipende Il risultato è una conseguenza Dipende da quello che fanno Le altre Insomma Un occhio su Flavia Un occhio su Mattia Sicuramente Due su Flavia e due su Mattia TRC nel mondo con un click Da oggi TRC ti accompagna In ogni momento E in ogni parte del mondo Basta collegarsi a www.trcgiornale.it E cliccare su TRC in diretta Oppure digitare www.trcgiornale.it Slash tv Per vedere in tempo reale La programmazione dell'emittente TRC nel mondo con un click E dopo la lunga intervista A Mattia Camboni Sono venuti a trovarmi Qui alla Lega Navale Anche se giochiamo oggi In trasferta Dario Curcio E Giovanni Pimpinelli Che sono come sempre Come tutti i lunedì Al mio fianco Per questa seconda parte Della nostra trasmissione Dobbiamo parlare Ovviamente anche di tutti i risultati Che sono arrivati Nel fine settimana sportivo Oltre alla grande notizia Che riguarda ovviamente Mattia Camboni Che è stato convocato Per le Olimpiadi Quindi insomma Non potevamo iniziare Diversamente questa puntata Iniziamo invece La seconda parte Parlando di calcio Parlando soprattutto Della Civitavecchia Che ha vinto La prima partita Sul campo dell'Atletico Vescovio Per uno a zero Chiamo in caso Dario Curcio Uno perché La Civitavecchia Ha vinto per uno a zero E con gol Di Andrea Luciani So che sei affezionato A questo giocatore Dario A parte A parte gli scherzi È stata una vittoria Forse che aumenta un po' Il rammarico della Civitavecchia Nel senso che sarebbe bastato Poco di più Per puntare a un campionato Sicuramente diverso Sono abbastanza d'accordo Aumenta un po' i rimpianti Però è una vittoria Che regala la salvezza Che era l'obiettivo Comunque di inizio stagione Sappiamo che Da quando c'è staffa Nel Civitavecchia È sicuramente Una squadra diversa Rispetto a quella Di inizio stagione Quindi un po' di rimpianti Ci sono Però io direi Che soprattutto Bisogna essere soddisfatti Di questo cammino E cercare di mantenere Questo progetto Anche per la prossima stagione A cominciare proprio Da Andrea Luciani Che secondo me Deve essere uno dei punti fermi Insieme ad Alfonsi A Laurato E ad altri giocatori Che sono arrivati Nel mercato di dicembre L'hai detto tu Ieri è arrivata questa vittoria Che porta il Civitavecchia A quota 48 Adesso l'obiettivo Secondo me Può essere anche quello Di cercare il quarto posto Che non darebbe nulla In chiave playoff Però sarebbe Un ottimo risultato Per il Civitavecchia E soprattutto Cominciare a pianificare La prossima stagione Appunto partendo Come hai detto giustamente tu Dalla squadra Dall'allenatore Che va confermato Ovvero Gianluigi Staffa Ma anche Dalla dirigenza Con le trattative Di cui ci parlava La scorsa settimana Il Gabriele Tostio Diciamo Uno dei dirigenti Della Civitavecchia Sono questi forse I punti di partenza Insieme allo stadio fattori Che va al bando Probabilmente a metà di maggio E quindi anche su quello Ci sarà da lavorare O comunque Mettersi d'accordo Con la CPC Per quanto riguarda Sì sì Sono assolutamente d'accordo Da adesso si può Iniziare a programmare Prima però Ricordiamo che mercoledì C'è un'altra partita Per quanto riguarda Il Civitavecchia Turno infrasettimanale Allo stadio fattori Conto il Montecelio Non serve per la classifica Però come ho detto Per il quarto posto Serve come E soprattutto Sarà un po' Una piccola festa Per il Civitavecchia Che ha trovato questa salvezza Matematica E quindi invito tutti Mercoledì alle ore 16 Alla fattori A venire a vedere Il Civitavecchia Anche perché Io credo che a fine partita Chiederemo a staff E agli altri dirigenti Soprattutto se c'è Questa intenzione Di proseguire insieme Anche nella prossima stagione Adesso credo Saranno un po' più chiari Dario scendiamo di categoria Passiamo alla promozione Con la vittoria della CPC Con lo stesso risultato Della Civitavecchia Un 1-0 Contro il Corneto Tarquini Anzi prima Di parlare Della CPC Di questa vittoria Andiamoci a vedere L'intervista Che abbiamo realizzato Al termine della partita L'intervista Al tecnico Massimo Castagnari Diciamo che Oggi è stata una partita Un po' nervosa Anche perché Quando va a finire il campionato Per noi Diventa fondamentale Quello che è il risultato Al pietà dell'attestazione È normale Giocare sempre E al fattore Non lo cadono giornate Divento così Con squadre Che sicuramente Trovare È normale Trovare gli spazi Molte volte più difficili Sicuramente abbiamo sbagliato Tanto, tanto Il primo tempo In quelle occasioni In cui si poteva magari E concludere prima La partita Siamo stati bravi A trovare il doro Stefano Però abbiamo Sofferto tanto Nella parte finale Proprio per Per la paura Ecco Che magari qualche Palla strana Qualche situazione Che magari Molte volte succede nel calcio Però abbiamo rischiato Pugissimo Io non ricordo Interventi E' un'ora E' un'ora Il corneto Come tutte le squadre Vengono qui A fare bene Contro la capolista E' normale Andiamo avanti E non a partire meno Ma io dico che Per noi Domenica la partita è l'anno Io ho visto l'Olimpia Ultimamente Se ricordo bene Ha fatto due gol A Guardia di Finanza Montespaccato Ha vinto il 93esimo Stesso conciglione Vincere con un gol da 30 metri E soffriva tutta la gara Quindi Andare a giocare Contro una squadra Che se non fa risultato E' retrocessa Direttamente Sicuramente Trovi una squadra Con le stesse motivazioni Quindi Io penso che Per noi Domenica è una etapa importante Una etapa importante In cui dobbiamo usare la testa E' dispiace Oggi aver perso Manuel Parra Che ha giocato l'esperienza Che quelle partite Sa come Come gestirle Però c'è un gruppo Che alla fine Sta facendo bene E sicuramente Ecco Sarà sul figlio Devegliamenti Ma diciamo Anche questa settimana Non si è allenato Ancora sento un fastidio Adesso faremo di tutto Per recuperarlo Magari Fallo sentire Parte della gara In questa domenica Mercoledì Che verrà Come già Ruggero Comincia ad essere Da parecchi giorni fermi E' normale Perdi quella condizione Che Devi ritrovare subito Perché Ruggero Per noi è fondamentale Speriamo di averlo Perlomeno Nelle ultime due partite Io Per me Già avere Gigi Contro Santa Severa Concilione Penso sia fondamentale Sia perché Ti dà sicurezza Sia perché Ti dà qualità Ti dà esperienza Dario Ticola Dispoli Che vince il primo tempo Per 3 a 0 Relativa al calcio È stata una domenica Con la sfida Che Le squadre E la Faglione E la Faglione ha dimostrato Di essere Che poteva decidere Che poteva decidere La partita E vediamo appunto Enrico Bartoli Che ci racconta anche Quello che è successo Con l'espulsione Chiara Balla mano Il gioco è fatto La Faglione Si qualifica Alla terza parte Enrico Bartoli Un grande successo Questa vittata Con Cingoli Siete riusciti a recuperare Dopo la sconfitta Siamo riusciti a recuperare Come ha già detto La mia compagna La squadra è giovane Però Abbiamo belli elementi Forti Tatticamente Tecnicamente Quindi Ci siamo riprese La rivincita dell'andata Ti devo fare questa domanda L'espulsione c'era o preno? No L'espulsione non c'era Perché il fallo Non era volontario Io ero in seconda entrata Nel fallo E È stata esagerata L'espulsione diretta Meglio in due minuti E poi Casomai Fosse stato un altro fallo successivo Così importante Allora sì Il rosso sì Però non c'era Dopo che si è stata espulsa Sostituta la squadra Da bordo campo Sia in attacco Che in difesa In futuro come allenatrice? In futuro come allenatrice Già Avevo iniziato in passato Però con il lavoro Ho dovuto un po' Perdere questa Lasciar perdere questa passione Non so Futuro può darsi anche Tu che in Serie A ci hai giocato Questa squadra Puoi essere da Serie A? Sì Secondo me sì Con qualche aggiustamento in più Qualche ragazza che Cresce nel tempo Sì La squadra secondo me Può giocare in A1 Io ho giocato in A1 Quindi Il livello c'è Dove avete vinto questa partita? Sia in attacco che in difesa Hanno giocato benissimo In entrambe le due schieramenti Rientriamo dall'intervista di Pallamano Con Enrica Bartoli Come ha detto Giovanni Pimpinelli Adesso la Flavioni Sarà attesa dal spareggio Contro il La Sassari Prima di accedere Al girone finale Che mette in palio Appunto i posti Per la promozione Nella massima categoria Femminile di Pallamano Ci andiamo a Facciamo un'altra piccola pausa Perché parlando di Pallanuoto Ci andiamo a vedere Prima gli highlights Della partita Tra NLSNC e Salerno Partita bellissima Conclusati sul 9 a 9 Che è rimasta aperta Fino ai minuti finali Vediamo Adi da Giovanni Pimpinelli Oggi è il giorno di NLSNC Salerno Siete in collegamento Per il Palagalli Per lo scontro diretto Poi cambia lato Per Pasca Luca Pasca Il passaggio per De Bellis De Bellis in tiro il gol Sblocca il risultato Qui a Palagalli 1-0 L'Oriente Salerno Clamorosa di Cianedic Arrivato dal Modugno D'Angelo Pica Il gioco sulla destra Il gioco sulla destra E poi nuovamente Lopov De Bellis Tutto solo il gol Lasciato solo De Bellis Firma il raddoppio del Salerno Più 2 Salerno Cianedic Posizione centrale Per Cacchini Non benissimo Cacchini Il tiro Leonardo Cacchini 0-1 Castello Contro Noviello Andrea Castello 4-4 Ciechia Appareggiato Powerplay Per i Salernitani In mezzo Il gol di Gallossi Pallagalli contro Ciechia Pica Acchiappa il pallone L'Oriacchiappa Gol Pica su Iula E il gol di Donato Pica Del Budva Il pallone per Davide Romiti Che all'otto e mezzo Si allarga a Romiti Romiti Davide Romiti Un gol Sensazionale Di Davide Romiti Alessandro De Bellis Il raddoppio del Salerno Siamo 7-5 Per Romiti Uomini più Per il Civitavecchia Conquistato da Davide Romiti Castello Andrea Castello Meno 1 Priori Priori Guarda la porta Il pallone per Pasca Pasca Gol Giordano Pagliarini Che è entrato in questo momento in acqua Giardis La finta Poi Gianluca Minoni in mezzo Per Andrea Guaglio Meno 1 Il Ciechia è ancora lì Il turno di sbagliare Priori Il gol adesso Di D'Angelo Con il Mancino Partita Vibrantissima Tensione vibrante Per Palagalli Ultima occasione per Ciechia Di recuperarla questa partita Con Gianluca Le finte Ivan Gianluca Un è stato segnato Adesso bisogna fare un altro Per realizzare il pareggio Il pallone della Ciechia Un gol da recuperare Gianluca Vada nel porto per il pareggio Gianluca Vada nel porto per il pareggio Arriva il pallone Gianluca Gianluca E' solo davanti a Daviello Il pallone Per Cacchini La guarda Cacchini Incredibile Incredibile Il pareggio della Ciechia A 38 secondi Dal termine Cacchini E' al Palagalli E' finita L'Ader SNC Ha pareggiato Per 9 a 9 Contro il Salerno E' un piatto Abbiamo visto gli highlights Di questa bellissima sfida Rimasta aperta E recuperata Dal SNC Negli ultimi minuti Giovanni te l'aspettavi Tu che facevi la telecronaca della sfida questo recupero da parte dell'SNC nell'ultimo minuto di gioco un po' non me l'aspettavo già ho visto Nero ho visto che l'SNC poteva perderla un'altra squadra sicuramente avrebbe perso di 4 o 5 gol di scarto invece va dato atto ai Rosso Celesti che sono rimasti in scia fino all'ultimo e grazie a un recupero prodigioso nell'ultimo minuto hanno segnato i due gol con Gianedic e con Checchini che hanno portato Rosso Celesti al pareggio anche se va detto ovviamente che il Salerno ha buttato a mare la partita questo lo sanno anche i salernitani che hanno sprecato alcune occasioni in attacco però non mi aspettavo che l'SNC giocasse così male meritava la sconfitta qualche limite da parte della squadra Rosso Celesti, soprattutto in attacco con 6 superiore numeriche che sono state sbagliate dagli uomini di Pagliarini, molti tiri forzati, palloni stoppati dalla difesa del Salerno in maniera quasi cestistica quindi un atteggiamento che forse va cambiato non è più una casualità il fatto che il CIE che faccia così tanti errori banali già è accaduto contro la Roma e contro la Promo c'è stato l'altro a fine trasmissione guarderemo proprio la partita che trasmetteremo il match tra Enel e Sencini e Salerno tra l'altro devo anche ringraziare i tecnici di TRC come Giulia Cerri e Alessandra Sacco che hanno permesso la produzione della partita quindi potrete vederla anche grazie al loro apporto però la classifica c'è stato qualche cambio adesso guardiamo un attimo i risultati e la classifica con il Nuoto Catania che ha battuto il Murentichi per 10 a 4 poi il Telimar Palermo che ha superato Promoges per 6 a 3 e la vittoria della Quaviona per 10 a 8 sulla Latina la vittoria anche della Rechi per 9 a 3 sul 7 Scogli successo esterno della Roma Nuoto che torna a vincere sul campo dell'Arvalia per 10 a 9 e poi il pareggio tra l'NLSNC e di Salerno per 9 a 9 Roma Nuoto che resta in attesta alla classifica con 49 punti poi NLSNC con 31 a Rechi 29 Salerno con 28 7 Scogli 27 Telimar Palermo e Nuoto Catania con 26 poi Murentichi a scendere fino all'Acquaviano che occupa l'ultimo posto della classifica Giovanni era importante forse questo pareggio più che altro per mantenere questo secondo posto della classifica che sarebbe stato a rischio nel caso di vittoria del Salerno sì perché sarebbe importante mantenere il secondo posto però a questo momento non è definitivo perché la Rechi deve recuperare la partita con il Palermo abbiamo la data si gioca il 2 maggio a Salerno nel caso di vittoria della Rechi sopravvanzerebbe in classifica proprio i Rosso Celesti però hanno adesso un calendario in discesa perché si comincia con gli impegni con le squadre di passa classifica sabato si andrà a giocare non a Santa Maria Capavetel ma si va a giocare a Napoli alla piscina Scandone contro l'Acquaven e quello già sarà un impegno fondamentale nella bagarre per i playoff perché poi si affronterà Arvaglia e Latina in casa un match più semplice per la truppa di Pagliarini ci sono sei squadre scusate un attimo che non me la ricordo a memoria ci sono ben sei squadre nel giro di cinque punti quindi tutti stanno lottando nessuno sta mollando a parte i Munantichi che si sono un po' allontanati dalla zona alta della classifica per cui ogni partita è praticamente limiti e decisivi Giovanni una battuta anche sulle altre squadre che hanno giocato per quanto riguarda il campionato di Pallanuoto parliamo della cosa che è tornata a perdere che va il tuo titolo l'ho letto va sempre più giù in classifica sì ormai sono sei punti di svantaggio dal quarto ultimo posto che significherebbe salvezza Coser in metà che si può agganciare anche con il discorso della Centuccella entrambe le squadre hanno fatto delle partite simuli Rodi in attacco pochissimi gol due gol della Coser che ha perso per setta due in casa contro la Roma Racing in uno dei derby le partite più accese per il campionato di Serie 2 femminile Centuccella invece che ha perso sempre in casa per la squadra di Fabio Cattaneo c'è da cambiare qualcosa gli infortuni stanno incidendo Mangiola non è ancora in piena forma Cicoria ha subito un'espulsione per tre falli gravi però bisogna cambiare la situazione già c'è l'impegno ormai decisivo contro il Ferreo domenica prossima perché il Ferreo è proprio quattro ultimo in classifica Centuccella ha perso per la squadra a tre e non ha dato fastidio alla squadra romana dell'Accademia di Salvamento e lasciamo la palla nuoto con questi risultati di cui ci ha parlato Giovanni Pimpinelli passiamo alla palla a volo perché c'era da giocarsi sabato uno scontro davvero importantissimo per quanto riguarda l'Enel Asp che nel campionato di Serie B2 affrontava l'Oristano con il quale si sta giocando la permanenza in categoria Enel Asp che ha vinto la partita per a tre a due dopo essere stata sotto per a due a zero e lo dico lo dico Dario Curcio era a vedere la partita fino a un certo punto della sfida tra Enel Asp e Oristano perché poi si è proiettato al Palagalli per andare a vedere la partita di Valoto anzi no non si è andato neanche al Palagalli comunque non è fatto in tempo comunque hai visto fino alla due a zero dell'Oristano sembrava essersi messa male la partita per la formazione Civitavecchese contro la squadra Sarda Dario in particolare con Luis Beltran il gigante dell'Oristano che era anche oltre a essere l'opposto era anche l'allenatore della formazione Sarda sembrava davvero essere finita la partita invece poi quando si è andato via è successo il miracolo allora questo non è vero perché io sono arrivato quando già avevano perso il primo set quindi ho visto un solo set che l'Enel Asp ha perso mi ha impressionato questo Beltran sicuramente uno dei giocatori più forti che ho visto proprio contro l'Enel Asp è un ottimo elemento che sicuramente ha fatto la differenza nei primi due set poi non ho visto gli altri però immagino che sia andato un po' a calare lui invece è stata brava l'Enel Asp a riprenderla questa partita un 3 a 2 che però non credo che possa lasciare soddisfatti quelli dei ragazzi di Fabio Cristini perché serviva una vittoria netta serviva conquistare tutti i punti in palio invece sono arrivati due punti per l'Enel Asp uno per l'Oristano e quindi credo che l'Enel Asp rimanga con un punto in meno rispetto all'Oristano adesso ci sarà da fare davvero all'impresa bisognerà vincere almeno due partite penso nelle ultime tre sì le leggiamo i risultati e la classifica per quanto riguarda il campionato di Serie B2 c'è la vittoria dell'Enel Asp contro l'Oristano per a 3 a 2 il Monteporzio che ha battuto per a 3 a 0 il Voleipo Mezzia 3 a 0 anche per il Sassari che ha battuto la Sabaudia sempre per a 3 a 0 3 a 1 invece per l'Olbia che ha spugnato il campo della Fenice 3 a 0 per il Marino che ha spugnato invece quello dell'Eglise a Scagliari che rimane ultimo a 0 punti successo per il Club Italia per a 3 a 0 sulla Torzapienza e poi Station Service Roma che ha battuto la Virtus Roma per a 3 a 1 in testa Station Service Roma con 55 punti Sabaudia con 53 Meridiana Olbia con 51 Monteporzio 50 Marino 46 Club Italia 45 Virtus Roma 38 Torzapienza 31 Ariete Vestis Oristano con 29 ecco la quale nell'Asp con 28 punti a un punto dalla zona salvezza appunto occupata dall'Oristano poi la Sassari con 26 Fenice 17 Pomezia con 14 chiude la classifica al volo Iglesias Cagliari con 0 punti Giovanni una battuta al volo potrebbe ingannare la classifica perché sembrerebbe che anche la Torzapienza rientrerebbe diciamo nella corsa per evitare la retrocessione in realtà la Torzapienza deve giocare ancora contro l'Iglesias Cagliari quindi ha praticamente 3 punti in più in classifica cosa ti aspetti da queste ultime 3 giornate perché può succedere tutto può succedere di tutto ci sono solamente 3-4 squadre in lotta perché ci sono già 7 promosse e 3 retrocess quindi bisogna vedere un po' come si comporteranno le squadre che non hanno più niente da aspirare a questo campionato quindi bisogna vedere un po' anche il calendario con chi affronterà l'Asp perché due trasferti in Sardegna la squadra di Fabio Cristini quindi devi cercare almeno un successo esterno per cercare di sopravanzare l'Oristano e poi l'ultima in casa sarà contro Station Service e speriamo che magari la squadra capitolina sia un po' in vacanza diciamo così perché potrebbe essere l'unico obiettivo di questa stagione avere la soddisfazione anche se non cambia niente poi alla fine vincere il campionato per merito e quindi avere la meglio sulle altre leggiamo anche i risultati per quanto riguarda gli altri risultati che riguardano la pallavolo parliamo della Serie D Margut Asp che continua a vincere mantiene il primato in classifica quindi la vittoria per 3-1 contro lo Scarabeo Volley Civita Castellana sconfitta invece per la Civita Vecchia Volley che sarà superata per 3-0 dal Marconi Stella Mamacafè sconfitta per 3-0 in casa dal Monte Rotondo tornando però alla partita dell'Enel Asp noi ci andiamo a vedere una serie di interviste che abbiamo realizzato nel posto partita Cristini e il nuovo acquisto della formazione Rosso-Blu Joel Bacci chiamato a sostituire Mancini infortunato e dall'altra parte proprio Luis Beltran vediamo Fabio Cristini una rimonta straordinaria da parte dell'Enel Asp c'è più rammarico per quei due set persi o per questa bellissima rimonta che avete fatto dimostrando di voler rimanere attaccati con tutte le forze della serie B2 beh diciamo che alla luce dei fatti è meglio aver vinto perché probabilmente potremmo anche vincere il primo set e poi perdere 3-1 quindi non sapendo bene come la partita andava a finire siamo contenti di aver vinto indipendentemente di aver sciupato un po' il primo set che poi probabilmente le cose non sappiamo come andavano direttamente anche perché era probabile che vincendo noi il primo set loro si rimettessero ancora in gioco invece siamo stati bravi e abbiamo cambiato qualcosina a livello tattico e a livello tecnico e quindi bene è così siamo tutti contenti pur restando ancora sotto però l'importante è rimanere vivi obiettivo che ci siamo dati all'inizio dell'anno quindi se arriviamo all'ultima giornata che ci giochiamo ancora qualche cosa probabilmente l'obiettivo è stato raggiunto di più non si può chiedere perché ci sono tanti problematiche che questa squadra ha dovuto affrontare durante l'anno però ci siamo migliorati rispetto al giro in andata quindi devo dire bravi ai ragazzi e niente ci rimane soltanto di continuare a giocare ecco Fabio non cambia molto per quanto riguarda la classifica perché l'Oristano comunque resta avanti anche se di un solo punto in vista di queste ultime tre partite cosa ti aspetti da queste tre partite insomma io ho guardato un po' il calendario sembra un po' scontri simili quelli vostri e quelli dell'Oristano allora mi sfuggono i loro i loro incontri mi sfuggono i loro incontri perché loro dobbiamo giocare tanto con la Fenice una squadra che sta dietro però credo che a Roma la Fenice venderà a cala la pelle Station Service e Club Italia Station Service e Club Italia bene puntiamo tutto sui giovani i giovani futuri nazionali quindi se loro vogliono vogliono continuare a giocare a altissimo livello dovranno sicuramente impegnarsi fino alla fine e vincere anche l'ultimo incontro quindi credo che per loro le motivazioni ci siano sempre bisognerà vedere quanto la tenuta mentale e fisica reggerà noi devo dire che rispetto alla media stiamo crescendo perché siamo partiti sempre con molti infortuni e molte assenze mentre ora stiamo recuperando tutti riusciamo a fare allenamenti a ranghi completi questo ci permettere di affrontare situazioni di gioco importanti e la partita di oggi l'avevamo preparata abbastanza bene però in corso ci siamo adattati tecnicamente quindi bene così niente un'ultima battuta che partire ha fatto di Stefano Riccardo era da un po' che aspettava questa possibilità e devo dire che l'ha colta da grande lui si esalta quindi bene così siamo con Joel Bacci alla fine di questa partita è una rimonta incredibile da parte dell'Enel Asp c'è un po' di ramarico per quei primi due set o insomma c'è grandissima gioia per aver recuperato una partita che sembrava terminata guarda e ramarico per il primo set in particolare un po' perché alla fine stavamo sopra parecchio però c'è da dire che mio caro amico anche il Beltran ci ha messo del suo quindi il primo set se lo sono guadagnati loro bene un po' di ramarico per quello il secondo hanno giocato benissimo loro però devo dire che la forza di questa squadra è stata proprio ecco che abbiamo lottato fino alla fine dalla panchina in Nesti insomma abbiamo lottato è stata una vittoria di squadra quindi è importante soprattutto perché in chiave salvezza contro una diretta avversaria abbiamo recuperato siamo tutti contenti con quel pizzico di ramarico però sai quando giochi e esci vincitore comunque sei sempre contento non cambia molto per la classifica perché la Neraspa resta comunque a meno uno proprio dall'Oristano c'è da giocarsi queste ultime tre partite al massimo Sì guarda io sono arrivato in punta di piedi i ragazzi mi hanno accolto benissimo infatti guarda li ringrazio a tutti e da quello che ho visto noi siamo una squadra che lotterà su ogni palla cioè nel senso finire anche quindi sicuramente queste ultime tre partite saranno delle battaglie perché anche a Pomezzi abbiamo perso il primo set abbiamo vinto qui abbiamo perso due set abbiamo vinto andremo a Olbi a lottare insomma tu hai giocato in tante squadre secondo te ci sono le carte regola per questa squadra per meritare il mantenimento della categoria ma io credo proprio di sì se lo merito i ragazzi li vedo che quelle poche volte sono venute ad allenarmi si impegnano tantissimo sono proprio in gamba insomma poi faccio i complimenti oggi a Riccardino che ha fatto una gran partita siamo con il giocatore allenatore dell'Oristano oggi è una partita che è andata male per la formazione sarda avanti di 2 a 0 avete perso alla fine per 3 a 2 cosa è successo cosa è cambiato è successo che noi ci abbiamo al centro un ragazzino che ha 17 anni due anni che gioco a palavolo va bene così non se ne puoi chiedere di più non cambia molto per la classifica perché nell'aspa resta comunque un punto indietro rispetto a voi sarà una lotta fino all'ultima giornata con la squadra di Cristini sì penso che sì penso che sarà una lotta fino alla fine del campionato perché siamo tutti vicini lì cosa ti aspetti perché il campionato è un po' particolare quest'anno non ci sono promozioni ti aspetti delle sorprese nelle ultime partite della stagione penso che sì penso che sicuramente c'era qualche sorpresa entresaldi romani sicuramente penso che sì ovviamente non ti posso chiedere se meritate più voi o più l'Enelasp di mantenere la categoria di ottenere la salvezza però in realtà entrambe le squadre oggi hanno dimostrato di essere quasi alla pari sì considerando che loro hanno giocato bene complimenti considerando pure che noi non mancano due titolari un posto quattro e un centrale quindi però va bene così rientriamo dalla palla a volo però passiamo a parlare di basket perché si è giocata ieri la partita tra Stemar 90 e Anzio una partita che sembrava Giovanni alla portata per quanto riguarda la formazione rosso-nera la formazione di casa ed invece è arrivata una sconfitta un po' a sorpresa con Lanzio che ha avuto la meglio per 68 a 55 una sconfitta che complica il cammino della Stemar 90 per appunto avere la certezza del quarto posto Stemar 90 che in vista dell'ultima partita che si giocherà contro la capolista Davies Nova rischia di scivolare addirittura in la stessa posizione cos'è successo? Questo è un rischio grosso per la formazione di coach Angelo Bondi in molle ma in palla ieri la squadra rossonera che ha subito giocate da parte della formazione neroniana che dopo un primo quarto di equilibrio il match ha cominciato con tre quartitore di dato per l'assenza del secondo arbitro però questa è una situazione che non favorisce nessuno perché è anche Anzio avuto questo problema la squadra Cività Vecchiese che ha dovuto fare meno di Campogiani però anche del buono non è ancora in condizioni come abbiamo visto la domenica precedente in cui ha fatto molto bene con cinque triple come ha detto ma in palla non ha mai trovato il pertuccio giusto non ci ha messo nemmeno la grinta ma abbiamo visto in altre partite in cui ha rimontato sempre dieci punti di distacco che non si sono mai ridotti nemmeno nell'ultimo quarto in cui coach Angelo Bondi ha visto la situazione ha fatto giocare molto anche i giovani questa buona notizia soprattutto Alessandro Spada il classe 2000 in classifica cambia molto con questa sconfitta perché il terzo posto non si può più raggiungere perché Soda è tornata a vincere però adesso si rischia sono due punti di vantaggio sul Fabiani Formia e sul San Paolo Stiense però con entrambe le squadre la Stemmar 90 ha un passivo peggiore per quanto riguarda gli scontri diretti quindi in caso di aggancio visto che la Stemmar 90 difficilmente andrà a vincere sul campo del Visno nell'ultima giornata la Stemmar 90 potrebbe scivolare e quindi andare a giocare in trasferta l'eventuale bella nel primo turno dei pilof Anche un po' di nervosismo Giovanni hai visto un'ultima battuta prima di mandare l'intervista al presidente Rizzidello un'intervista anche abbastanza lunga realizzata dal nostro Giovanni Ziego prima di sentire le parole del presidente hai visto un po' di nervosismo anche da parte di alcuni giocatori Un po' sì sembra non esserci in atmosfera idilliaca all'interno della squadra sicuramente potrebbe esserci qualche scossone a fine stagione un cambio già c'è stato quest'oggi perché oggi pomeriggio Manuele Parrocini ha annunciato l'addio alla squadra un periodo particolare per la guardia di Cerveteri che è diventato proprio da poco quest'anno non è stato impiegato moltissimo da parte del tecnico di Santa Marinella per cui ha annunciato proprio il suo addio dopo quattro stagioni che faceva parte della squadra rossonera quindi l'apporto viene a mancare da parte del vice capitano soprattutto come chioccia nello spogliatoio Andiamoci a vedere l'intervista che Giovanni Ziago ha realizzato nel post partita all'intervista al presidente Stefano Lizzitiello Presidente una sconfitta che sicuramente quella di stasera brucia ma che non pregiudica quanto di buono fatto dalla Stemar 90 fin qui la settimana scorsa si si era detto l'importante sarà non sprecare tutto con ansio purtroppo questa eventualità si è verificata adesso con quale spirito però la Stemar 90 in quanto anche società visto la sua presenza guarda ai playoff ma innanzitutto questa sconfitta odierna che secondo me nasce pure da un piccolo e semplice discorso psicologico aspettare un'ora e mezza mentre si fa riscaldamento il secondo arbitro ha un po' scaricato i nostri ragazzi comunque non metto nessun tipo di scusante può capitare l'ansio comunque è un'ottima squadra oggi è venuta preparata carica non ci dimentichiamo che sia noi che l'ansio siamo le due neopromosse per cui forse anzi ci teneva pure a fare bella figura e c'è riuscita questo è un accendo insomma ultimo appuntamento casalingo della regola season è quello di stasera un giudizio di questo primo anno insomma da matricola del campionato di seri circonda della sua squadra molto positivo noi all'inizio della stagione sinceramente come squadra neopromossa non avevamo molto a conoscenza del livello di gioco e delle squadre diciamo che si è lavorato molto l'allenatore ha lavorato molto 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 bene sotto il profilo fisico tecnico all'inizio della stagione e questo ci ha portato ad avere un bel inizio che poi abbiamo gestito per il resto del campionato la società è soddisfattissima contentissima e adesso ci andiamo a fare questi playoff con una tranquillità e uno stimolo di fare bene e diventare direi la mina dei playoff questo te lo posso assicurare ecco quindi non c'è un obiettivo insomma io ricordo all'inizio anno insomma in conferenza stampa lei aveva parlato di obiettivo salvezza forse era stato un po' troppo poco ambizioso visto insomma quello che si sono rivelati i risultati e visto quello che si è rivelato il valore del campionato adesso come si guarda i playoff già l'ha detto insomma una tranquillità assoluta ma magari c'è qualche voglia di arrivarsi qualche soddisfazione più allora io quando ho detto quelle parole su un'intervista era a giugno a giugno addirittura del campionato risultava ancora il Valmontone che poi a luglio è stato ripescato in Serie B per cui capisci bene non conosciamo le squadre il campionato e anche le squadre sono anche cambiate hanno ripescato un paio di squadre che erano retrocesse già l'anno precedente per cui è normale che al primo anno io poi sono una persona che insomma non mi butto mai troppo avanti l'altro anno se ti ricordi ero sicuro del fatto mio e come vuoi dire i risultati mi hanno dato ragione stanno so partito con un po' di precauzione ho detto facciamo un buon campionato e cerchiamo di salvarci subito e invece è andata meglio quindi sono molto contento di questo i playoff li facciamo come ti ho detto con lo spirito di quelli che entrano in campo e sono l'avversario che si devono mettere paura di noi perché noi adesso giochiamo per divertirci ai playoff per divertirci e per levarci più soddisfazioni possibili e ragazzi e poi si inizierà a pensare al prossimo anno o qui già la ricucci insomma si comincia a parlare quantomeno a grandi linee della prossima stagione ma per il prossimo anno dobbiamo prima parlare con il nostro main sponsor la Stemar con il socio Stefano Chichiani per vedere un attimino budget economico per la prossima stagione su quello poi si baserà un po' tutte le nostre scelte di squadra e di tante altre cose ancora ci dobbiamo un attimino vedere e organizzare probabilmente aspetteremo anche un altro po' più che altro per passare i playoff appunto per goderceli anche noi con estrema tranquillità un'ultima battuta in fatto di bilanci insomma quando c'eramo sentiti all'inizio stagione si arrivava dalla cessione di un elemento importante come Santiago Boffelli sono arrivati altri giocatori un giudizio da presidente su quello che è stato l'apporto di questi nuovi giocatori e su quanto è mancato se è mancato qualcosa dalla cessione di Boffelli allora guarda mi insegni che non è bello fare nomi e roba del genere oltretutto il nostro coach ha impostato una squadra sul lavoro sull'umiltà sulla difesa di tutti e cinque che si devono spendere aiutare per i compagni per cui è sempre stata una vittoria o nella vittoria scusami o nella sconfitta è sempre la squadra mai singoli abbiamo parlato del corso della smissione sport time di settimana scorsa c'era stata un'intervista a fine partita da parte del tecnico Bondi che era stato molto soddisfatto della vittoria ottenuta in casa domenica scorsa aveva parlato di una squadra in crescita una squadra molto in crescita peccato queste le sue parole insomma che cresca solo la squadra e non nell'ambiente che è circostante io faccio parlare i fatti i fatti sono che nell'ultimi quattro anni siamo riusciuti col settore giovanile levato stanno ma abbiamo fatto sempre tutti i campionati federali nell'ultimi quattro anni abbiamo messo il parquet ristrutturato una prima ristrutturazione perché ne ha bisogno di un'altra i spogliatoi abbiamo messo i quattro canessi per aumentare la potenzialità degli allenamenti perché abbiamo dei gruppi di mini basket di 28-30 bambini a fascia d'età hai visto siamo l'unica società di tutta la C-Gold che ha la Croce Rossa e non ci dimentichiamo che non più tardi di una settimana fa qua un ragazzo dell'Alfa Omega è svenuto a fine partita e noi avevamo Lettino Croce Rossa dottore a disposizione gli è stato praticato subito tutto quello che bisognava praticare compreso un elettrocardiogramma il ragazzo è andato via di qua con una diagnosi poi si è ripreso presso l'ospedale di Ostia per cui che ti devo dire non lo so io lo so contento noi stiamo crescendo tantissimo abbiamo quasi terminato con la carrerata dei risultati della fine settimana sportivo parliamo però di rugby perché è arrivato l'accesso ai playoff finalmente per il CRC che ha battuto al Moretti della Marta e la Catania per 27 a 12 Giovanni che partire è stata rapidamente più che altro cosa cambia in classifica perché il primo posto non è ancora al sicuro sul Benevento vittoria abbastanza agevole da parte degli uomini di Granatelli e Gargiulo che si sono imposti sulla squadra etnea dopo il successo dell'andata vediamo un po' la classifica anzi il pronunista di questo match è stato ancora una volta Emanuele Di Ottasi che ha realizzato due metri dopo le tre della domenica precedente che ha realizzato nella sfida che sarà giocata sempre a Moletti della Marta ma contro il Paganica 5 metri in due partite per la cività vecchiese il CRC non ha fatto il punto di bonus il Benevento invece ci è riuscito nella sua gara quindi i punti di vantaggio del CRC sul Benevento diminuiscono da 3 a 2 domenica prossima ci sarà proprio lo scontro di retto atteso ormai da alcuni mesi si va a giocare in campagna in casa del Benevento quindi in caso di sconfitta il CRC molto probabilmente arriverà al secondo nonostante comunque una bella notizia arrivata perché i biancolossi sicuramente giocheranno i playoff o primi o secondi questo non si sa però già la notizia è arrivata la bella notizia era quella l'importante insomma è già arrivata chiudiamo parlando anche di calcio a 5 perché incredibile Dario ma vero è arrivata la vittoria della Rosati Utensili sul campo della Real Caselfontana per 6 a 3 quindi tutti i discorsi che abbiamo fatto insomma con la Rosati Utensili ormai spacciata per quanto riguarda l'ultimo posto in classifica ci rimangiamo un po' tutto perché non è ancora detto c'è da vedere cosa succede all'ultimo turno sì allora io però partirei dall'Atletico che ha pareggiato 0 a 0 Antonio contro la Virtus Stella Azzurra partirei dall'Atletico perché è già sicuro dei play out da disputare probabilmente in casa perché l'Atletico se non sbaglio ha due punti in più sulla Virtus Anguillara che andrà in trasferta contro il Ciampino è l'unica che può raggiungere ancora appunto l'Atletico forse tre sono i punti tre punti di distanza però se l'Anguillara vince l'Atletico perde l'Anguillara ad andare a giocare l'eventuale play out in casa per via degli scontri diretti comunque basterà un punto o che l'Anguillara non vinca affinché appunto l'Atletico giochi il play out proprio in casa per quanto riguarda invece la Rosati Utensili si riapre un po' in chiave play out però è ancora difficile sicuramente deve vincere la Rosati Utensili in casa contro il TD Santa Marinella poi deve sperare o che perdano Valencia e Anguillara per portarsi al terzo ultimo posto e giocare proprio contro l'Atletico Civitavecchia all'eventuale play out oppure che perda una delle due e non vinca il Carboniano perché altrimenti la distanza tra il penultimo e il quinto ultimo posto è superiore agli otto punti e quindi non si disputerà il play out e quindi la Rosati Utensili non farà il play out anche in caso di penultimo posto la base di partenza per dare la vittoria contro la TD Santa Marinella una partita da seguire insomma no? un derby tutto da seguire sì vi invito quindi a seguire la partita che si giocherà sabato alle ore 15 al palazzetto dello sport sarà una finale ovviamente per la Rosati Utensili bisognerà vincere a tutti i costi non è scontato perché il TD Santa Marinella è vero che ormai è quasi fuori dai play off però è comunque un derby quindi non ci sarà biscotto non ci sarà biscotto e con questa frase una sentenza di Dario Curcio abbiamo terminato insomma la carriata con i risultati della fine settimana sportivo non ci resta che vedere la nostra consueta rubrica l'up and down vediamo chi sale e chi scende nello weekend sportivo promozione settimanale per Mattia Camboni era ora dopo mesi di attese di gare interlocutorie finalmente è arrivata una notizia straordinaria per la nostra città che alle prossime Olimpiadi di Rio de Janeiro avrà il suo rappresentante Mattia Camboni non ha mai perso la determinazione anche nei momenti di difficoltà è trasformato in realtà il sogno di tutti gli sportivi per il giovane Civito Vecchiese non è finita qua perché adesso arriva il bello nonostante la giovane età in Brasile il windsurfista della nazionale dovrà dimostrare tutto il suo valore obbligato down della settimana per la Stemara 90 perché quella vista contro Anzio è stata una delle peggiori della stagione i rossoneri non sono mai stati in partita e hanno consentito ai neroniani di fare il bello e il cattivo tempo con questo K.O. il quintetto di Bondi rischia di scivolare dalla quarta alla sesta posizione la speranza che la squadra di coach Bondi abbia già la testa agli spareggi promozione Arachiri è terminata anche questa puntata in trasferta la possiamo chiamare così di Sport Time io ringrazio Giovanni Pimpinelli per essere stato in studio grazie Giovanni devo ringraziarti Antonio c'è una bella prezza marina speriamo non venga a piovere speriamo di non tornare a casa con la febbre grazie anche a Dario Curcio grazie Dario grazie a te Antonio e buona serata a tutti prima di lasciarvi ricapitoliamo però le telecronache che andranno in onda nei prossimi giorni o meglio a partire proprio da questa sera con la sfida di Palannuoto con la voce di Giovanni Pimpinelli la sfida di Serie A2 tra NLSNC e Salerno domani alle 18.30 spazio alla basket con la partita tra Stemmar 90 e Anzio con la coppia ormai stabile formata da Giovanni Ziaco e coach Mauro Tedeschi sempre domani ma alle 20.45 la palla a volo con la partita tra Enelasp e Oristano mercoledì invece alle 21.45 sarà la volta della palla a mano con Flavioni e Cingoli torna Giovanni Pimpinelli giovedì torna invece Dario Curcio con la partita che andrà in onda alle 21.15 con il calcio tra Civitale e Montecelio che si giocherà mercoledì e quindi dobbiamo ancora aspettare qualche giorno è davvero tutto anche per questa puntata di Sport Time io vi ringrazio per l'attenzione vi auguro un buon proseguimento di serata